Ancora un episodio all'interno dell'area ex Lebole che racconta del degrado che questa zona, ex zona industriale, vive ormai davvero da tanti anni. Una donna è rimasta ustionata in un episodio che è ancora da chiarire. È successo intorno alla mezzanotte. La donna, una 38enne, è stata colpita da un ritorno di fiamma con alcol etilico. I mezzi dell'emergenza urgenza sono intervenuti con un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca. La donna è stata accompagnata in codice giallo al centro ustionati di Pisa, riportato ustioni, di secondo grado sul 20% del corpo. La zona che oltre 30 anni fa ospitava la storica fabbrica del tessile Lebole è di proprietà dell'imprenditore pistoiese Marco Carrara. Io l'ho vista quando lavoravano tutti delle 5.000 persone. Però questa è la storia. Che si facciano qualcosa. Poi vieni dalla coltella, ci racconto qua in sino, non ci facciamo una bella figura. Poche settimane fa proprio Carrara aveva voluto raccontare alla città il motivo di 22 anni di abbandono. Ha parlato di promesse non mantenute, progetti che sono stati fatti naufragare. Al contrario, il sindaco Ghinelli aveva invece annunciato possibili investitori per un centro commerciale direzionale. Nessun contatto, ha precisato Carrara, siamo pronti a spiegare in consiglio comunale come andare avanti. Intanto l'area è nel pieno del degrado e diventa rifugio di fortuna per chi vive ai margini. Ecco, come vedete qui abbiamo un lucchetto che ovviamente tiene chiusa la recinzione dell'area ex Lebole. Più volte è stata chiusa quest'area, ma puntualmente i cancelli vengono riaperti e le persone entrano ed escono facilmente, come ci raccontano gli imprenditori che hanno le attività in questa zona. Entrano e poi escono fuori. Comunque ci sono persone che stanno dentro o cosa fanno. Ha visto anche a volte intervenire la polizia e i carabinieri? Sì, alcune volte sì. Comunque penso che 4-5 mesi fa ha visto anche macchine di polizia. È inutile, volevo dire, che facciano con l'elicottero e se non lo spreco di carburante. E purtroppo non cambia niente.